Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi leggiamo e analizziamo insieme Solo e Pensoso di Francesco Petrarca. Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace qui sotto, iscrivervi al canale e seguirmi anche su Instagram. Mi trovate come Diego di Charlotte. Innanzitutto dobbiamo dire che Solo e Pensoso è una lirica che appartiene al canzoniere. Al canzoniere abbiamo dedicato una video lezione che vi lascio qui per un ripasso. Questa raccolta di liriche, I rerum vulgarium fragmenta, consta di 366 componimenti. Per la maggior parte, pensate bene, 317 sono sonetti. Come sappiamo il canzoniere è diviso in due parti. Dal primo componimento al 263 abbiamo le rime in vita di Laura e dal 264 poi le rime in morte di Laura. Leggiamo ora Solo e Pensoso sonetto che fa parte della prima parte del canzoniere, quindi delle rime in vita, ed è il 35esimo. Abbiamo un sonetto di 14 endecasillabi, due quartine a rima incrociata, abba, abba, e due terzine a rima ripetuta, cide, cide. In Solo e Pensoso, Petrarca cerca la solitudine per nascondere il suo dolore, ed è tutto il paesaggio circostante a testimoniare proprio il suo dolore per Laura. Vedete qui lo schema metrico, quindi del sonetto, le due quartine, le due terzine, la struttura, abba, abba, cide, cide, quindi le due terzine a rima ripetuta, e iniziamo ora la lettura e poi l'analisi. Solo e Pensoso percorro con lentezza i campi solitari e volgo attorno con attenzione, quindi intenti, lo sguardo, gli occhi intenti, lo sguardo per evitare luoghi in cui l'arena, quindi in cui il suolo, è segnato da tracce umane. Quindi Petrarca, immerso nella solitudine, percorre lentamente questi campi solitari, si guarda attorno per evitare di incrociare il suo sguardo con altri esseri umani. Le figure retoriche che troviamo in questa prima quartina sono l'enjome motra, il primo e il secondo verso, i più deserti campi, «vo mesurando», una perifrasi perché questo «vo mesurando» è una perifrasi, è come se lui stesse misurando i suoi passi, valutando, contando l'endiadi, sole Pensoso, tardi e lenti, come vediamo quindi dei termini anche che hanno un significato, questo accoppiamento di termini con un significato molto simile, l'iperbato e gli occhi porto per fuggire, intenti, dove naturalmente l'ordine regolare, canonico sarebbe stato, e porto gli occhi intenti per fuggire, e la paronomasia, stampi, scampi, dove abbiamo la paronomasia, ovvero parole con un suono simile, pensate per esempio a rosa, riso. Petrarca dunque si vergogna e non vuole rivelare però questa sua sofferenza interiore, per questo preferisce trovare un luogo in cui sia completamente solo e dove non rischi di incrociare qualcun altro. È mesto ed è anche malinconico. Questo elemento, questo motivo, era già presente nel sonetto proemiale voi che ascoltate. Peraltro Petrarca prova anche vergogna, attenzione perché Petrarca ci tiene molto, ci teneva molto al giudizio dell'altro e quindi probabilmente non vuole anche incrociare nessuno perché, facendo una sorta di psicanalisi del poeta, si sente proprio a disagio per i sentimenti che sta provando. Leggiamo ora la seconda quartina. Altro schermo non trovo che mi scampi dal manifesto accorger delle genti, perché negli atti dalle grezza spenti di fuor si legge come io dentro avampi. Io non trovo altro schermo. Vi ricordate Dante, le donne dello schermo? Lo schermo è un riparo, quindi dice io non trovo un altro riparo che mi risparmi del manifesto, cioè dell'evidente accorgersi delle genti. Quindi attenzione, il termo già che vi dicevo prima, no? La porra del giudizio dell'altro. Perché nei miei gesti, nei miei atti, nei miei gesti, senza gioia, dalle grezza spenti, dall'esterno si capisce come io arda avampi dentro di me. Quindi non vuole essere visto da nessuno perché non vuole che venga a letto come lui si sente all'interno, perché questo è visibile da chi lo guarda. Troviamo anche qui, come vi dicevo, la paronomasia stampi-scampi, che era tra l'ultimo verso della prima quartina e il primo verso della seconda quartina. L'enjambement, che mi scampi dal manifesto, dalle grezza spenti di fuor si legge. L'ossimoro, dalle grezza spenti, l'ossimoro abbiamo qui l'accostamento di termini antitetici tra di loro. L'antitesi, spenti, avampi e la similitudine, come io dentro, avampi. Infatti, il tema, come vi dicevo, del manifesto accorgersi delle genti, torna proprio nella produzione di Petrarca. Petrarca teme il giudizio dell'altro, tant'è che dice al popolo tutto favola fui gran tempo. Quindi, preferisce in questo caso evitare di ricevere le osservazioni, di essere argomento di conversazione degli altri. Per questo preferisce rifugiarsi nella natura. Qui troviamo diversi enjambement tra monti e piagge, fiumi e selve e tra che tempere sia la mia vita. E il polissindetto è un'enumerazione anche, monti e piagge, fiumi e selve. Quindi, cosa ci sta dicendo Petrarca? Che ormai lui crede che monti, spiagge, fiumi e selve sappiano di che tempra è fatta, è costituita la sua vita, che è celata, che è nascosta agli altri. Ma pur si aspre viene, si selvagge, cercar non so, ch'amor non venga sempre, ragionando con me e io con lui. Anche qui troviamo questo ma avversativo. Ma pur si aspre, quindi ma ancora così aspre, vie, ma tuttavia vie così solitarie, così impervie, non so cercare. Amore viene sempre a parlare con me e io con lui. Come vedete abbiamo addirittura una personificazione, non è amore che lo viene a cercare. In questo sonetto, dunque, troviamo proprio la fuga di Petrarca. Una fuga che mostra già quel sentimento che lui prova nei confronti di Laura, che è comunque un sentimento, in questo caso, che lo porta a voler evadere, a voler rifuggire, a scappare da ciò che prova. E quindi emerge proprio in tutta la poesia una sorta di gioco degli opposti, con una serie di antitesi, nel senso che addirittura tutti vedono ciò che prova Petrarca e il fatto che lui dentro è divorato, quindi è pieno di fiamme da un certo punto di vista, ma dall'altro vorrebbe anche non far capire agli altri la natura del suo sentimento. Infatti, perché non lo vuole far capire agli altri? Perché l'amore, in questo caso per Laura, che peraltro è una donna molto diversa da Beatrice, è una donna molto meno angelicata, ma è una donna anche carnale, in un certo senso, dinamica. Ecco, l'amore che prova Petrarca è un amore passionale che lui vorrebbe però celare, nascondere e che lui vivrà come un vero e proprio traviamento. Dunque, il suo non voler essere giudicato dalla gente, il suo non voler che il suo amore venga così letto e che sia visibile, mostra proprio la duplice essenza di questo sentimento amoroso che da una parte è vissuto dal poeta, ma dall'altra lui non vorrebbe viverlo. Nonostante Petrarca si sia allontanato da tutti, sia in mezzo alla natura solo e pensoso, l'amore lo trova lo stesso. L'amore che, come abbiamo detto, è personificato. Quindi l'amore, questo sentimento che lui prova, non lo abbandona mai. Nonostante lui, cerchi di allontanarsi da tutto e da tutti. Nonostante però Petrarca cerchi in tutti i modi di sfuggire da questo amore, nel verso finale, in questo parallelismo, troviamo uno svelamento. È vero che Petrarca fugge dal sentimento amoroso, però in realtà in fondo in fondo non vuole allontanarsene del tutto, perché sia per la natura del suo forte sentimento e sia perché a volte, come se Petrarca, alla fine riconoscesse comunque sia il fatto di non voler del tutto che amore se ne vada e quindi riconoscendo il valore di questo sentimento. Ci vediamo alla prossima video lezione. Grazie a tutti.